Sindaco, allora che cosa sta accadendo? Ma guardi, sta accadendo che c'è necessità di un confronto, un confronto così che non è mai mancato in questa maggioranza, anche nella precedente legislatura. Il confronto ci sarà, ci sarà sui temi che la lista civica ha al centro per terra, ma posto al centro dell'attenzione, ma ci dovrà essere anche su quello che è la coalizione, perché credo che sia importante. Io credo che, anzi credo, la volontà di andare avanti ieri mi è stata testimoniata da tutti, ma questo è un presupposto base per poter continuare in questa avventura. Noi abbiamo avuto un grande onore dai cittadini, quello di vincere le elezioni, ma anche un grande onere, quello di rispettare il loro mandato e di lavorare per la crescita della nostra città. Questo dobbiamo rispettare, quindi faremo nei prossimi giorni un incontro, un incontro politico-amministrativo con tutte le forze della coalizione e in quell'occasione discuteremo della coalizione e poi metteremo sicuramente sul tavolo tutte le altre problematiche. Ieri nella sua nota di replica ha scritto, tra le tante cose, che l'ordine del giorno lo deciderà lei. Che cosa significa? Quello che ho detto, prima di parlare di temi che riguardano il nostro territorio, l'ex manicomio, insomma tutta una serie di tematiche che giustamente la lista al centro per Teramo pone all'attenzione della maggioranza, è necessario parlare della coalizione. Che ci troveremo a fare da qui a qualche settimana saranno scelte difficili, saranno scelte sul bilancio di cassa, dovremo decidere tante cose importanti per il bene dei cittadini, per far questo ci vuole una maggioranza forte. Un mea culpa? Non se la sente di farla? Ma guardi, mea culpa? Io mi metto sempre in discussione, io la mattina quando mi alzo mi metto davanti allo specchio per fare le cose che ogni mattina, ogni settimana fa, mi metto sempre in discussione. Anche in questa occasione, per il comunicato fatto dalla lista civica, ho cercato di fare un'analisi. Ma guardi, io ritengo come tutte le persone che si fanno cose buone e cose meno buone. A volte si sbaglia, a volte si indovina. Quindi non mi sento né sotto accusa, ma non mi sento nemmeno... Il confronto c'è sempre stato, abbiamo sempre discusso, i temi posti all'ordine del giorno li abbiamo sempre analizzati e li continueremo ad analizzare. Pensa che i cittadini siano soddisfatti di questa sua amministrazione? Ma guardi, io incontro tanta gente. C'è tanta gente che dice che non è soddisfatta e c'è tanta gente che dice che invece è contenta del sindaco Brucchi e di questa amministrazione. Quindi da questo punto di vista credo che si rispecchi un po' quello che è stato il mandato elettorale. Però vede, in questo momento, le scelte da fare sono tante e sono difficili. E qualcuno ci deve mettere la faccia. Io non ho paura a mettercela. Metterci la faccia significa anche qualche volta, come dire, non andare incontro a quelle che sono le esigenze, perché non è possibile. Quindi su questo non mi pongo più di tanto il problema. Io il confronto l'ho sempre accettato, soprattutto con i cittadini, perché loro sono quelli che mi hanno, diciamo, come dire, detto che devo amministrare questa città per i prossimi cinque anni. Gatti e Tancredi che dicono di questo comunicato della civica? Ma guardi, quello che dicono Gatti e Tancredi lo dovrebbe chiedere a Gatti e Tancredi, sicuramente. Non si è sentito con loro? Assolutamente, ma mi sono sentito anche con Di Dalmazio ieri, mi sono sentito con Di Dalmazio, mi sono sentito con Gatti, mi sono sentito con Tancredi. Devo dire che ieri, la giornaliera, mi sono sentito con tutti. Quindi tutti hanno confermato la volontà di voler andare avanti. Ma questa conferma, diciamo, verrà ribadita in un prossimo tavolo politico. Guardi, se non ci fosse questa disponibilità non c'è nessun problema. La poltrona di Brucchi quindi non scricchiola? Guardi, questo lo vedremo nei prossimi giorni. Io mi sento tranquillo perché lavoro dalla mattina a sera per il bene di questa città. L'ho fatto, lo continuerò a fare se ci sono i presupposti.